Si erano già accampati in via dei colli marini e si accingevano a creare un campo nomadi abusivo. La polizia locale di Arde ha scongiurato l'occupazione di un terreno da parte di un gruppo di famiglie sinti provenienti da Catania. 25 persone in tutto avevano deciso di stanziare in un prato adiacente la strada. All'arrivo degli agenti c'è stato qualche attimo di tensione, ma poi tutte le attività di controllo sono proseguite regolarmente. I vigili hanno verificato la documentazione degli otto veicoli, tra cui tre roulotte, senza tuttavia riscontrare irregolarità. E nessuno dei rom è risultato avere problemi con la giustizia. Gli è stato dunque spiegato che il campeggio in quell'area è proibito e la carovana è stata scortata verso la pontina, fuori dal territorio comunale. Il tentativo di accamparsi è stato bloccato sul nascere, spiegano dal comando della polizia locale. Abbiamo informato le famiglie che il luogo da loro scelto non prevedeva la possibilità di ospitare roulotte, non essendo un camping attrezzato. Quindi sono state scortate oltre il confine del comune di Ardea.